ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video io sono debora e oggi laundry day due giornate ragazzi ebbene sì ho detto proprio due giornate avete sentito bene di bucato questo periodo questi ultimi giorni non sono stata benissimo quindi mi si è accumulato più bucato del solito di quello che ho di solito e quindi ho pensato di fare una full immersion di bucato da lavare insieme a voi quindi oggi vi faccio vedere un po quello che faccio di solito quando utilizzo la lavatrice e l'asciugatrice nello specifico vi faccio vedere i programmi che utilizzo i detersivi che sto utilizzando in questo periodo come sapete già l'ho detto tante volte se mi seguite da tanto tempo lo sapete amo fare il bucato amo la lavanderia secondo me è l'angolo più bello della casa quindi molto spesso mi dedico proprio al bucato per rilassarmi ebbene sì ragazzi vedrete tra un po' la molle di bucato che ho ebbene sì io mi rilasso perché mi piace tantissimo stare in lavanderia quindi prima di lasciarvi al video voglio ricordarvi di iscrivervi a questo canale se ancora non siete iscritti attivare la campanella per non perdere i prossimi video voglio ringraziare tutti i nuovi iscritti di sempre e a questo punto direi di andare a lavorare quindi andiamo a fare il bucato grazie a tutti 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 grazie a tutti